Come vede questa sfida con oltre 15 anni di centrodestra, ora nuovamente a Paolo Perrone, vicino ad Adriana Polibortone? Non so, non ho gli elementi per vederla. Come la vedono ci diranno gli elettori il giorno dopo le elezioni. Ma l'unica cosa che so è che conosco Luigi Meli, che è una persona di grandissima serietà e competenza. Per cui credo che persone come lui servano alla politica, si inserisce pienamente anche nel discorso che c'è a livello nazionale, di coinvolgere il meglio della società civile per farle entrare in politica. Perché questo è l'unico modo vero per rinnovare. Poi naturalmente tutto come sempre nelle mani degli elettori vedremo se hanno gradito questa novità nella politica di Lecce. Credo che sia importante non vincere, ma governare bene. Perché ho detto oggi e lo ripeto questa sera, vincere e non governare significa deludere gli italiani. E purtroppo abbiamo avuto sia con Prodica che con Berlusconi due vittorie che non hanno saputo soddisfare anzitutto gli elettori che l'avevano determinata. L'obiettivo era aggruppare un'area forte che c'è nel paese di gente che vuole pacificare e non litigare. Aspetto la grande novità di Alfano con rispetto perché riservo agli altri il rispetto che vorrei fosse riservato a noi.